Bentornati a quest'ultima puntata degli anni folli di Ennio Morricone. Oggi parliamo dell'anno più folle degli anni folli, il 1972. Allora, nel 1972 Ennio Morricone compone 26 colonne sonore. Cioè, 26 colonne sonore, basta un breve calcolo per capire che sono più di due colonne sonore al mese. È un qualcosa che sfiora veramente il prodigioso, ma non tanto dal punto di vista musicale, ma da quello organizzativo. Allora, partendo dal concetto che stiamo parlando di comporre colonne sonore e di, insomma, scrivere musica, quindi un qualcosa di creativo, e non stiamo parlando di spostare sacchi di patate, con tutto rispetto per chi lo fa, voglio fare un breve calcolo con voi. Allora, considerate 26 colonne sonore, moltiplichiamoli per una durata di circa 50 minuti per colonna di media. Fa un totale di 1300 minuti di musica scritti nel 1972. Allora, già come primo dato potrebbe essere interessante, perché se considerate che sono dei gruppi musicali che impiegano magari due o tre anni per fare un disco di 40-50 minuti e si mettono magari in quattro a scriverlo, qui abbiamo una persona che scrive 1300 minuti di musica in un anno. Se dividiamo questi 1300 minuti di musica per 365, vediamo che vengono fuori circa 3 minuti e mezzo di musica al giorno. Il dato di per sé non è, come dire, fantascientifico. Tre minuti e mezzo di musica al giorno non solo si possono scrivere, uno che fa questo lavoro lo fa regolarmente. Io normalmente compongo 4-5 minuti di musica in un giorno. Se ci sono dei pezzi che hanno un'orchestrazione non particolarmente intensa, posso arrivare anche a 6-7 minuti al giorno. Non ci riesco io, figuriamoci, se potrebbe essere possibile per ogni moricone. Ma il dato straordinario non è tanto la quantità di musica scritta, quanto la questione organizzativa. Nella scrittura di una colonna sonora, la composizione della musica è solo, come dire, la punta dell'iceberg. Perché bisogna scrivere la musica e va bene, questo lo diamo per scontato. Poi bisogna fare in modo che questa musica piaccia al regista. Ora, apriremo magari un capitolo a parte un giorno sul rapporto che aveva Moricone con i registi, che mediamente, come dire, era un rapporto spesso duro, nel senso che Moricone più di una volta si è messo di traverso e ha detto al regista se la vuoi è questa, altrimenti arrivederci e grazie. Però, insomma, mediamente la musica deve piacere al regista, non fosse altro perché magari in una produzione, come dire, se la fa andar bene, ma se poi non è contento, non tanto del risultato quanto del rapporto che c'è stato con il compositore, poi non lo chiamerà più al prossimo film. Quindi diamo per scontato che al regista sia piaciuta la musica. Poi questa musica va registrata, ovviamente, cosa che richiede tempo. Ora, questi erano gli anni, lo sapete, in cui il 99% delle musiche di Moricone veniva diretta da Bruno Nicolai. Ma mi riesce difficile pensare che Moricone in qualche maniera non partecipasse, non presenziasse alla registrazione, se non di tutte, almeno di una buona parte di queste corner sonore. E questa cosa qui, ovviamente, porta via tempo. Poi va, ovviamente, montata la musica sul film. Ci vuole che il compositore sovrintenda, perché può esserci un errore, può esserci un malinteso, insomma. Quindi è una fase in cui sbagliare è facile, quindi bisogna essere presenti. Quindi immaginate queste quattro fasi della composizione di locali sonora, che vi assicuro, veramente semplificato per macro aree, era tutto un continuo incrociarsi di impegni. Per cui un giorno avrà scritto la musica per un film, il pomeriggio magari avrà registrato la musica che vi ha scritto il mese precedente per un altro film, la sera magari era il mix di un altro film ancora. Insomma, quindi, questa cosa è straordinaria, non fosse altro dal punto di vista meramente organizzativo. Allora, una domanda che mi fanno spesso è ma qual è la differenza tra un grande professionista, un super professionista e un genio? I geni sono pochi. Morricone era un genio, indubbiamente. Ma il fatto che io sia convinto di questa mia asserzione non vuol dire che tutto quello che fa un genio sia un capolavoro. Cioè, lo dico spesso, no? Mozart ha scritto 626 composizioni, non sono 626 capolavori. Il punto è la quantità di capolavori che ha scritto e la qualità media del resto, di quelli che non sono capolavori, che sono lavori magari, come dire, più ordinari, più normali, ecco, più, magari in certi casi, più fino a scolastici, ma comunque con una qualità media altissima. Questo fa di un genio un genio. Quindi una grande quantità di capolavori è un lavoro comunque altissimo degli altri. Allora, partiamo con questa lunga, lunga cavalcata di questi 26 film del 1972. Partiamo con Maddalena, regia di Jersey Cavalerovitz. Imputazione di omicidio per uno studente, ecco la regia di Mauro Bolognini, con Massimo Renieri, che canta, tra l'altro, anche la canzone originale del film. La violenza, quinto potere, regia di Florestano Vancini, con Ciccio Ingrassia, in una delle sue parti drammatiche. Questa specie di amore, regia di Alberto Bevilacqua. Cosa avete fatto a Solange, regia di Massimiliano Dallamano? Questo è un film interessante per un dato. Il direttore della fotografia era Gio D'Amato, che poi negli anni 70 e 80 divenne forse il più importante regista italiano di film hard. E questo potrebbe essere anche interessante, a più di un giorno, fare una puntata sulla musica nei film erotici, ma anche nei film hard. È una cosa che oggi è impensabile per questioni di mercato e di budget, ma una volta c'erano dei compositori che venivano, chiamati per scrivere nelle colonne sonorie un film a luci rosse, insomma, perché come c'era il direttore della fotografia, come c'era il regista, come c'erano tutte le altre figure professionali che ci sono in un film, diciamo, normale, diciamo così, c'era anche nel film hard. E se per caso una mattina, regia di Vittorio Sindoni, quando le donne persero la coda, regia di Pasquale Festa Campanile, vi ricordate che abbiamo visto l'altra volta quando le donne avevano la coda, l'avevamo anche ascoltata, qui c'è una collaborazione con Bruno Nicolai che sembra andare ben oltre il fatto che Nicolai avesse registrato la colonne sonora, perché diversi brani risultano proprio accreditati al solo Bruno Nicolai, quindi sarebbe uno di quei rarissimi casi in cui Morricone ha scritto una colonne sonora, non dico a quattro mani, nel senso che i pezzi venivano composti in parte l'uno e in parte dall'altro, ma probabilmente ci si dividevano le scene, qualche scena musicava Morricone, qualche scena musicava Nicolai. Il diavolo nel cervello, regia di Sergio Sollima, I figli chiedono perché, regia di Nino Zanchin, Mio caro assassino, regia di Tonino Valeri, e su questo film ci fermiamo un secondo. Allora, io il film non l'ho visto, quindi so solo, insomma, che un film di ambientazione si vede anche dalla copertina, un thriller, forse anche con qualche sfumatura un po' più pesante, il film non l'ho visto, dicevo, ma ho ascoltato la colonna sonora, che è questa che ora vado a suonarvi. Allora, l'ho suonata volutamente così, senza accompagnamento di niente, perché fosse quanto più pulita e quanto più ascoltabile possibile. Quando ho ascoltato questa colonna sonora, ripeto, io non conoscevo la colonna sonora e non avevo visto il film, dicevo, ma questa, questa, io l'ho già sentita, mi ricorda qualcosa, mi ricorda qualcosa, mi ricorda qualcosa, cosa mi ricorda, cosa mi ricorda, mi ricorda Canon Inverso, film di Ricky Tognazzi, del 2000, con le musiche di Morricone, e il tema principale era questo qua. È in, originalmente in altra tonalità, ma l'ho riportato nella stessa tonalità dell'altro film per maggiore chiarezza. Allora, tra l'altro con una sonora bellissima quella di Canon Inverso, un giorno magari potremmo farci una puntata apposta. Come sentite, il tema è molto molto simile, niente di male, sia chiaro, è un'autocitazione, la faceva continuamente Rossini, può farla Morricone, posso farla io, può farlo, può farlo chiunque, è assolutamente come dire, non è considerato male, ecco, diciamo così, insomma, è sempre musica propria che viene riutilizzata. Anche se volessi lavorare, che faccio? Regia di Flavio Mogherini, Chi l'ha vista morire? Regia di Aldo Lado, con George Lesenby, siamo nel 1972, tre anni prima del 69, questo attore ha fatto niente poco di meno che James Bond. La banda J&S, Cronaca criminale del Far West, regia di Sergio Corbucci, I racconti di Canterbury, continua la collaborazione fra Morricone e Pasolini, anche questo film vince l'orso d'oro a Berlino, anche questo film avrà enormi opinioni di censura e anche questo film incassa una barca di soldi, cioè due miliardi che nel 1972, credetemi, erano una barca di soldi. Spogliati, protesta e uccidi quando la preda è l'uomo, regia di Vittorio De Sisti, Le deux saisons de la vie, le due stagioni della vita, regia di Sammy Pavel, una produzione belga, Il maestro e Margherita, regia di Aleksandr Petrovic, L'attentato, regia di Yves Boisset, La cosa buffa, regia di Aldo Lado, di questo film riparleremo prossimamente su una puntata specifica sull'uso di alcuni strumenti nella produzione di Morricone, ma ne parleremo più avanti. La vita a volte molto dura, vero provvidenza, regia di Giulio Petroni, che prosegue con il filone di Western comico che era iniziato con Trinità qualche anno prima. Un uomo da rispettare, regia di Michele Lupo con Kiki Douglas, Giuliano Gemma e Florinda Volkan, Il ritorno di Clint il solitario, regia di Alfonso Balcazar, Barba Blu, regia di Edward Dimitric e Luciano Sacripanti con Richard Burton nella parte di Barba Blu e le sette mogli che sono sette importanti donne dell'epoca, importanti dell'epoca tra cui Rachel Wetch, Virna Lisi, Agostina Belli e molte altre, tra cui Karin Schubert che a proposito di Giordamato a qualcuno qualcosa dovrebbe ricordare. Particolarità veramente strana di questa colonna sonora che qua e là si legge nei blog che ci sia una parte di musica della colonna sonora scritta da Maria Piafusco che però non viene accreditata. io non lo so non ho notizie in merito. A me sembra strano che Moricone abbia fatto andare la musica di qualcun altro sul proprio film. Comunque questo come dire c'è questa leggenda metropolitana che striscia D'amore si muore regia di Carlo Carunchio ancora una canzone di Gianni Moricone questa volta cantata da Milva che centriamo noi con la rivoluzione regia di Sergio Corbucci e Fiorina la vacca regia di Vittorio Sissi forse la vacca Fiorina era meglio come Fiorina la vacca non so a me non suona benissimo comunque che cosa possiamo dire in conclusione in particolare di questo 1972 che è stato un anno più di quantità che di qualità per Ennio Moricone non tanto dal punto di vista musicale perché come ho detto in apertura un genio è quello che scrive tanti capolavori e anche quando non fa dei capolavori fa comunque un qualcosa di livello medio molto alto sicuramente superiore alla media parlo però di maggiore quantità rispetto alla qualità riferito in particolare ai film che ha fatto ovvero sia nel 1971 cioè l'anno prima del 72 Moricone è un compositore famosissimo i registi fanno aggomitate per averlo a scrivere le colonne sonore dei loro film e ha già fatto tanti successi mondiali pensiamo solo a quelli di Sergio Leone ha già fatto le produzioni internazionali insomma quindi è un compositore di più che in piena scesa ovviamente nel momento non più alto della sua carriera ma fino a quel momento nel momento più alto non più alto in assoluto più avanti arriveranno fasti perfino maggiore ma fino a quel momento è sicuramente al top sarebbe stato auspicabile pensare che il 1972 avesse visto dei film magari di meno ma particolarmente mirati fatti con registi particolarmente importanti e produzioni particolarmente importanti invece il 1972 vede 26 film quindi un numero altissimo ma praticamente possiamo dire che quasi nessuno di questi 26 film resterà negli annali e verrà ricordato come un film come una pietra miliare della cinematografia italiana per cui da questo punto di vista è quasi un passo indietro se vogliamo dal punto di vista della carriera della crescita della carriera ma quello che ha fatto Ennio Morricone in questi anni in cui ha scritto 145 colonne sonore molte delle quali veramente resteranno a imperitura memoria nella testa non solo dei musicisti non solo dei appassionati ma anche degli ignari passanti che ascoltando una musica non sanno quella musica la composta Ennio Morricone beh insomma io credo che solo per questa cosa Morricone si sia guadagnato l'eternità ci vediamo alla prossima puntata Grazie a tutti